Buon pomeriggio a tutti, siamo qui per questo seminario nell'ambito del Master in Tecnologia del Software Libre Open Source. Questo seminario è aperto a pubblico, tutti gli anni tendiamo a fare seminari aperti a pubblico perché bene o male un Master ha anche una certa responsabilità verso il territorio e deve non solo servire alle persone iscritte al Master ma anche per divulgare informazioni agli interessati. Quindi abbiamo avuto in una precedente edizione anche Stolman fra noi a parlare del software libero. Il tema del seminario di oggi è software libero e Open Source presente e futuro. Innanzitutto si parte con cattive notizie. Questa è l'attestata della mail che mi è arrivata stanotte, potete vedere, alle 23.09 con Roberto Di Cosmo della Parigi Settima che scrive, sono assolutamente disperato di doverte scrivere a poche ore da convegno che non posso venire domani, ha dei problemi a Parigi con dei progetti e non ce l'ha fatta a venire oggi qua. Mi piace partire facendo un ripasso, la provo da didatta quale sono, ripasso che probabilmente spero non sia utile ma spesso si perde di vista i concetti fondamentali quando ci si addentra in particolari. Allora per mettersi d'accordo tutti i suoi termini di ciò che stiamo discutendo oggi, partiamo con concetti fondamentali. L'informatica è una scienza e non una tecnica. È un concetto troppo spesso dimenticato. Si pensa che l'informatica, ci sono il reparto computer di un supermercato che viene chiamato reparto informatica. Sarebbe come se il reparto calcolatrici fosse chiamato reparto matematica. Il reparto, non lo so, dove ci sono termometri, reparto di fisica. No, l'informatica è tutta un'altra cosa, è una scienza. È come tale deve essere trattata. In questo lucido ho racchiuso tutti i concetti fondamentali dell'informatica, le basi. L'informatica, termine molto, diciamo, più indicativo del termine originario americano computer science, tanto che l'abbiamo esportato, indica esattamente ciò che intendiamo, informazione automatica. L'informazione è un'entità percepibile dal ragionamento umano, per qualsiasi scopo, anche per scopo ludico, per divertirsi. La musica MP3 è informazione, anche se non serve per prendere decisioni, serve solo per divertirci. Il dato e l'informazione hanno la stessa natura, solo che il dato è grezzo, è inutilizzabile nella struttura attuale. Invece l'informazione è il dato raffinato utile in questo momento, quindi leggere l'MP3 in codice esadecimale è poco utile, mentre invece trasformarlo in onde sonore e portarlo alla cuffia per poter sentire la musica diventa un dato utile. La temperatura di stamattina può essere utile per decidere quale maglione mettere. La temperatura di stamattina è una goccia nel mare dei dati che servono per stabilire se il pianeta si stia riscaldando o meno. La temperatura di stamattina da sola non serve a nulla. I tre problemi fondamentali dell'informatica sono elaborazione, trasformazione dell'informazione, memorizzazione, lo spostamento dell'informazione nel tempo e comunicazione, lo spostamento dell'informazione nello spazio. Per tutte queste operazioni occorrono dei linguaggi, linguaggi per rappresentare un'elaborazione, linguaggi per rappresentare dei dati, i formati e linguaggi temporizzati per rappresentare una comunicazione, i cosiddetti protocolli. E quindi noi parliamo dei linguaggi. Conoscete questo signore? Non è un famoso terrorista, ma questo signore è il signore Alcuarezmi, al quale noi informatici vogliamo molto bene. Alcuarezmi ci ha aiutato a uscire dall'incubo, di usare l'abaco per fare i conti, ha creato l'aritmetica posizionale, ha creato lo zero. Alle scuole elementari i bambini quando insegnano a fare la divisione in colonna devono dire che questo si deve alla cultura araba e si deve al signore Alcuarezmi. Vissuta a Baghdad che a quanto pare e a quanto ci fa vedere Alcuarezmi è una culla di civiltà ed è, mentre l'Europa era ancora nel medioevo più buio, creava scienza e scienza vera. A lui si deve l'inizio dell'algebra. Diceva noi informatici vogliamo bene ad Alcuarezmi tanto che gli abbiamo intitolato il concetto chiave più importante che abbiamo, quello di algoritmo, una sequenza di passi volta alla risoluzione di un problema. Quindi scrivere un algoritmo, il mestiere dell'informatico è un mestiere di autoanalisi, di pensare come si può risolvere un problema e trasformare questo metodo risolutivo in passi, passi elementari che possono essere automatizzati. L'informatica insegna processi mentali, meccanismi di ragionamento. È un programma, non è altro che è un algoritmo, è un algoritmo espresso in un linguaggio. Sì, un linguaggio, come qualsiasi linguaggio umano fatto da lessico, alfabeto, lessico, sintassi, semantica. I quattro elementi di un linguaggio. Cosa serve per scrivere un programma? Serve aver capito che cosa significa scrivere un algoritmo? Serve uno strumento per scrivere e serve la conoscenza del linguaggio di programmazione. Guardate, nell'elenco manca un calcolatore, infatti non serve un calcolatore per scrivere un programma. Ok, l'alfabeto è un insieme di simboli, il lessico data delle stringhe dei simboli dice quali stringhe sono corrette e quali sbagliate e le stringhe corrette le chiama parole. Le parole, stringhe di parole, se sono coerenti con una grammatica si dicono frasi sintaticamente corrette. Frasi sintaticamente corrette hanno associati dei significati e se il significato esiste per una frase sintaticamente corretta, quella è la semantica della frase. Non pensiate che i linguaggi siano solo legati a frasi, parole perché quando voi interagite con una macchina, con un'interfaccia grafica, voi parlate un linguaggio fatto di spostamenti, click, drag, come si dice, trascinamenti in italiano e quindi anche questi sono linguaggi e sono linguaggi codificati e sono linguaggi che fanno parte dello studio dell'informatica. Questo è un programma, è il programma che traduce le maiuscole e minuscole scritte in linguaggio C. Anche questo è un programma, è il programma che trasforma le maiuscole e minuscole scritte in codice macchina. Questo, il secondo, è codice macchina per Intel i386, è nel formato ELF ed è per sistema operativo Linux. Ovviamente, anche se non siete informatici, il primo che era scritto così, potete pensare di mettervi a tavolino, prendere dei libri, studiare e imparare che cosa significa while, che cosa significa put chart, bene o male, capite che potete farcela e così è. Questo, anche se siete informatici, capite che non potete farcela. Al di là dei piccoli esempi che si possono disassemblare, programmi di dimensioni usabili non sono traducibili, non sono comprensibili nel loro funzionamento. Magritte ci insegna che quello non è una pipa, anche perché se provate ad arrotolare lo schermo e fumarvelo, vi assicuro non è una cosa gravevole, neanche fumare la vera pipa lo è, comunque non è possibile, questi non sono programmi. E questo è una cosa che non è chiara a molti. Quando andate nel reparto del supermercato a chiedere dei programmi, a chiedere di poter acquistare programmi, voi commettete un errore, perché non acquisterete mai i programmi, acquisterete delle scatole con dentro un cd e vi verrà data una licenza per l'uso del programma, quindi non acquistate il programma. E qui c'è un fraintendimento forte, questo fraintendimento forte è il fraintendimento che si avrebbe se uno confondesse la poesia con il libro di poesia. Il libro lo potete acquistare, diventate proprietari della carta, diventate proprietari della copertina, ma non della poesia. E così voi acquistate la scatola di cartone, il cd, ma non diventate proprietari del programma. Solo che la poesia la potete leggerla, non ha parti nascoste. Il programma vi viene dato normalmente in codice eseguibile e voi acquistate la possibilità di usare qualcosa che non conoscete, che non potete sapere come è fatto. La letteratura è un prodotto industriale? No, non si può dire che la letteratura è un prodotto industriale, perché non potete mettere ordine di poeti dalle 9 alle 5 in uno stanzino a creare la prossima edizione dell'autologia, creando nuova poesia. l'editoria è un prodotto industriale, che genera i supporti e distribuisce i supporti. Così il software non è un prodotto industriale. Anche quelli che vi vengono venduti come programmi innovativi in realtà utilizzano conoscenza e cultura che è stata ereditata da anni e anni e decenni di studi informatici. Quindi non acquistate quel programma che è completamente nuovo. Ci sono migliaia di idee che vengono condensate e vengono utilizzate. Sarebbe come dire nella matematica che voi acquistate una soluzione a un problema, dimenticandovi che state utilizzando migliaia di anni di teoremi che hanno preceduto per poter arrivare a quella soluzione. Infatti, quando i risultati della matematica non sono, se sbaglio corregimi, come diceva il pontefice compianto, non sono brevettabili. I risultati della matematica, le formule matematiche sono pubblicabili. Invece qualcuno vuol far pensare che il software sia di natura diversa. Io ho coniato il termine libertà di pensiero algoritmico. La libertà di pensiero algoritmico è quel diritto che ho di stare nel silenzio della mia cameretta e partendo da uno schermo nero, da un foglio bianco, di poter scrivere il mio programma e pretendere che quello sia mio. Come se mi mettesse a scrivere poesia o musica, quella che scrivo, il risultato è un'espressione del mio ingegno e posso farne ciò che voglio. Questo è vero oggi col diritto d'autore, se mai passasse l'idea di poter brevettare il software, questo non sarebbe più vero. Perché se solo usassi un'icona che cambia di forma per manifestare l'avanzamento di un processo, andrei a collidere contro un brevetto che dice che quello è proprietà di qualcuno. Un brevetto che l'ufficio dei brevetti, non mi ricordo se questo è europeo o americano, ha dato a larghe mani. Non interessa niente a un ufficio brevetti, dare dei brevetti. Prende dei soldi per darli, poi sarà questione di che poi si trova nei guai coi brevetti andare a difendersi. Solo che se nei guai è un'azienda di grandi dimensioni, magari ha la potenza economica per andare a combattere. Se invece sono tanti singoli atomizzati, questi si trovano vittime e non riescono più ad avere il diritto di parola in senso algoritmico perché non possono più scrivere i loro programmi. Le licenze d'uso, questo è un famoso grafico che c'è in un documento del Microsoft Foundation, riassumiamolo in questo modo, si dividono in due grandi categorie, le licenze proprietarie e le licenze libere. Le licenze proprietarie comprendono il codice payware, quello che pagate per averne licenze d'uso, ma anche il codice shareware e il codice freeware, che sono programmi, a mio avviso, molto pericolosi, che chiusi proprietari, non potete guardarli, modificarli, e vi vengono dati o in prova o regalati. Ora, io non credo molto ai regali per nulla, quindi sicuramente nel freeware, se guardate bene, sotto c'è un secondo fine. Se noi abbiamo dall'altra parte il codice libero, il codice libero che ha due definizioni praticamente al giorno d'oggi coincidenti, che è quella del free software e quella dell'open source, una parte dai principi, questi, delle quattro libertà fondamentale, l'altro ne dà, quella di parents, dell'open source, una dichiarazione più operativa. Questa piace poco alle aziende, perché le aziende non pensano alla libertà, anche se in fondo fanno business con la libertà, ma vogliono sapere le fasi operative. A tutt'oggi le licenze in uso sono quasi totalmente, il set, l'insieme è quasi totalmente coincidente, quelle che sono libere sono anche open source e viceversa. Da non confondere con quelle, poi quella sotto classe delle open source e delle licenze libere che hanno il copyleft, che è una proprietà in più. Ad esempio la GPL è una licenza con copyleft. Copyleft significa licenza libera che ha la proprietà transitiva della libertà. Se io prendo un programma con licenza libera, lo posso modificare, posso fare quello che voglio, ma se lo torno a rilasciare, così com'è, ho modificato, devo garantire la stessa licenza con la quale l'ho ottenuto. I detrattori di questa idea la chiamano potere di contagio del software GPL, mentre invece è più bello a chiamarlo transitività della libertà. Open source, vi dicevo, è la stessa cosa, è simile al free software, ne dà una descrizione più operativa ed è opera di parents. Quindi l'errore in cui talvolta accidentalmente, talvolta diciamo in maniera voluta, errori che vengono compiuti, è quello di confondere il free software con il freeware. Purtroppo free ha questo doppio significato in inglese, per cui oggi si preferisce l'edizione software libero o liberal software, anche nell'accezione inglese, in modo da non generare la confusione che sia la gratuità. Infatti è proprio un errore, il software libero non è gratuito. Non è gratuito ma genera un mercato, un mercato professionale, il mercato di chi pone il suo lavoro a crearlo, modificarlo, installarlo, dare istruzioni per il funzionamento. Ci sono tante persone che vivono e lavorano grazie al software libero, al free software in senso libero. Open source è un altro falso amico che abbiamo. Perché falso amico nel senso false friend inglese, parola che sembra una cosa diversa da quello che è? Perché sembra che la sola lettura del sorgente renda il codice al sorgente aperto. E ciò non è vero. Perché occorre garantire la possibilità di leggerlo, modificarlo e distribuirlo. Il contrario del software libero è software proprietario chiuso e non software commerciale perché vi ho detto si fa commercio di software libero. Software libero non è di pubblico dominio. FOSS è un acronimo che si usa spesso, free and open source software. È un acronimo usato per il nostro master a Bologna, è master in free and open source software technology e quindi si avrebbe in Mfosset. Mfosset è un po' un acronimo che è stato usato. Vedete il logo sia in italiano che in inglese. Qualcuno dice che il diavoletto bene o male ricorda il direttore. Da diavoletto a davoletto poco. Come si fa a guadagnare da altre software? L'emface viene posta sul lavoro. I programmi vanno mantenuti e il funzionamento deve essere garantito. È vero che voi potete scaricare open office, potete scaricare programmi e studiarli, guardarli, anzi grandissima cosa, ma se voi foste un'impresa, un'azienda che base il suo business su un software libero, a voi basterebbe scaricarlo e installarlo? Io vorrei una ditta capace di garantirmi che se qualcuno va storto in 48 ore franco penali mi mette tutto a posto e sono sicuro di andare avanti con quello che è il mio scopo aziendale. Così come sì, casomai potete avere una rete di professionisti. Se avete bisogno, avete problemi di natura legale, sapete che potete contare su una schiera di avvocati e li mettete in libera concorrenza e scegliete il migliore. L'informatica può generare una schiera di liberi professionisti capaci di dare una mano alle aziende in caso che queste abbiano bisogno. E i liberi professionisti, come gli avvocati commercialisti, gradiscono essere pagati per il loro mestiere. Le aziende vengono messe in libera concorrenza fra loro. Le aziende che forniscono software libero non hanno segreti, mostrano il loro codice e danno il servizio al codice. Quindi voi potete decidere fra chi vi fornisce il software e il servizio al software e quello che vi dà il servizio migliore. Non avete vincoli per cui dovete aspettare un service pack se avete un problema o se no, dovete vivere nell'incertezza perché il buco nel software non è stato coperto. Se c'è necessità di qualcosa di nuovo viene fatto e soprattutto non si perde risorse per fare ciò che già esiste. Perché se il software è libero ciò che esiste può essere riutilizzato. Non si scopre l'acqua calda. Per le aziende questo vuol dire libertà dai vincoli di dipendenza dei fornitori del software, libertà di crescere, provare nuova soluzione e libertà di controllare la qualità del software. Non è vero che il software libero di per sé voglia dire il software più sicuro. Esiste il software libero scritto bene e il software libero scritto male. È vero che però la qualità del software dà un indice della sicurezza del software e ora se la potete controllare avete una possibilità in più di verificare che il vostro software sia sicuro. Per le software house hanno il vincolo di dipendenza dai fornitori di tecnologia per lo sviluppo e questo vincolo per le software house non esiste se usa software libero e verso i clienti dà una trasparenza. Quindi quello che succede è che il cliente nel momento in cui scoprirà che esiste il software libero probabilmente se voi vi siete arroccati nell'uso di software proprietario preferirà chi dà chiarezza rispetto a chi si arrocca dietro il tentativo di bloccare in una dipendenza dalle soluzioni fornite. Quindi se fornite il software libero e specialmente se siete i primi sul mercato avete un vantaggio competitivo notevole. Gli enti pubblici hanno una responsabilità in più, quella di educare il mercato perché dalle scelte degli enti pubblici si determinano scelte di tutte le aziende che operano sul territorio e soprattutto se vengano scelti i prodotti liberi la necessità di consulenza a software specialistico oppure software customizzato per l'esigenza creerà della competenza sul territorio e farà lavorare ditte locali al posto di importare semplicemente software da altre parti del mondo. nella scuola poi questo è particolarmente vero perché ciò che viene usato nelle scuole poi di solito viene portato nel mondo del lavoro e quindi educare ad avere una visione ampia di quelle che sono le soluzioni significa generare nuove classi di studenti, nuove generazioni di studenti capaci di avere la mente aperta, capaci di utilizzare molte soluzioni comprese quelle proprietarie se vogliono ma non solo quelle. ho aggiunto alcune slide diciamo un po' paradossali, da matematico ogni tanto mi viene da pensare com'è una dimostrazione per assurdo. Vediamo di negare l'ipotesi e vedere che cosa succede oppure se fossi un giornalista direi mettiamoci nei panni, dovremmo fare un'indagine, mettiamoci nei panni dell'indagato e vediamo come si comporterebbe. Allora facciamo il gioco al contrario, software proprietario presente e futuro. Dà molteplici effetti il software proprietario, effetti di dipendenza, effetti di perdita dell'autocoscienza, crea strutture sociali in questa dipendenza e la dipendenza crea effetti economici. Se andiamo a vedere uno per uno questi punti, effetti di dipendenza, normalmente non viene presentato in questo modo, più da stupefacente che da software, viene presentato con lock-in ma il concetto è simile. Ad esempio, formati, si fa, mi dicevi il linguaggio di rappresentazione dei dati. Se si usano dei formati proprietari, chiusi, apparentemente aperti, sono quei formati che potete leggere ma guai a voi se modificate e quindi danno vantaggio competitivo all'azienda che li ha creati. Leggete l'articolo The Java Trap di Stolman. Questi creano lock-in perché dopo avete un bagaglio di dati salvati in questi formati e non potete più uscirne. Facendo talvolta delle analisi di informatica forense per il tribunale, capita che ci siano delle prove illegibili perché sono salvate con programmi di 15 anni fa e era proprietario chiuso, non c'è più il programma per leggere e quindi si è persa la memoria. intera e biblioteche hanno il problema di mantenere la memoria, sono molto più pratiche da mantenere le fotografie su carta di quanto siano le informazioni digitali. Se il formato è aperto, bene o male, si leggerà il formato e si può riscrivere un programma capace di leggerlo. Così fanno tutti, parafrasanto Mozart, se io fosse titolare di azienda che fa software proprietario, tenderei a far apparire il software proprietario come l'unico universo possibile e tenderei a tenere in scacchi i fornitori di hardware. Come? Se la maggioranza vuole i miei prodotti e i produttori di hardware vendono le macchine con il sistema operativo, il software accluso, ovviamente i produttori di hardware che vietano di fatto di acquistare le macchine senza il mio prodotto software, gli do il prodotto software a un certo prezzo, mentre invece quelli che lasciano la libertà all'utente magari gli incremento il prezzo del sistema operativo in modo da mandarle fuori mercato. La maggioranza vuole quel tipo di software e quindi i produttori di hardware sarebbero in scacco. Sto facendo la signora Fletcher, sto facendo i casi ipotetici di situazione, però sono convinto che se ci sono arrivato io, qualcuno che ha un ufficio marketing più grande che è il mio, più grande delle capacità che ho io di marketing, ci sia arrivato. Incompatibilità, mi fa comodo creare incompatibilità, perché facendo così io aumento i costi di uscita, se creo incompatibilità con altri prodotti, deve usare i miei prodotti, una volta che ho incominciato a usare i miei prodotti non ne esce più, quindi la dipendenza, e se vuole cambiare prodotto ha un sacco di costi. Un caso tipico, non è solo uno incopevole. Il Comune di Bologna, stiamo studiando come mette il software libero, ha una dipendenza da Lotus Notes e Lotus Notes è difficile, perché sono stati creati tanti softwareini specifici per piccole esigenze ed è difficile uscirne. Effetti di perdita dell'autocoscienza come essere liberi pensanti? Un problema grave è quello della divulgazione del modello utilizzatore uguale spettatore, perché l'utilizzatore non deve poter capire che cosa ha sotto mano. Questo va per varie strade, va con la diffusione dell'idea che scrivere programmi sia una cosa difficilissima, che per scrivere un'applicazione occorrono investimenti enormi. È vero, se uno partisse da zero, facesse tabula rasa di tutta la matematica e volesse fare il teorema di Pitagoro sarebbe difficilissimo, ma grazie a Dio abbiamo una cultura alle spalle e noi non facciamo altro che aggiungere l'epsilon a ciò che abbiamo già. E quindi è possibile, combinando tanti strumenti liberi, fare delle applicazioni molto importanti. Ma se noi non abbiamo alle spalle questa cultura, ci viene vietato di usarla? Siamo nei guai. In questa divulgazione del modello utilizzatore-spettatore c'è una forte sinergia con il distributore di contenuti. Perché? Perché c'è un lucido dopo che fa il punto. Allora andiamo avanti con gli altri punti qua. Vincolo stretto del linguaggio. Se noi creiamo l'idea che tutto il mondo sia fatto in un certo modo, facciamo in modo che appena il mondo si discosta da questo stereotipo, tutti si trovano spaesati. Io dico sempre, provate a prendere un marziano, metterlo davanti a un calcolatore, a un elaboratore, con il sistema operativo oggi più diffuso su personal computer e dite gli spegni la macchina. Sfido chiunque a farglielo cercare sotto il tasto start. Ora, però a tutti appare naturale spingere le start per spegnere la macchina. Perché? Perché non vediamo più il mondo in maniera distaccata. Quello è il modello e tutto deve rifarsi a quel modello lì. L'idea forte di proprietà intellettuale confuschi definitivamente è quella di libertà intellettuale. Fate un'analisi statistica e guardate oggi sui giornali quanto si parla di proprietà intellettuale e quanto si parla di libertà intellettuale. di proprietà intellettuale. Ora, gli studenti del master in corso ricorderanno il primo seminario di quest'anno, Cosenza, che ci è venuto a raccontare, Mimo Cosenza di Milano, che ci è venuto a raccontare che la prima fonte di export per gli Stati Uniti sono diritti di proprietà intellettuali che subclassano di varie volte la seconda voce in bilancio per gli export che sono gli armamenti, le forniture militari. Vengono snaturati i concetti di diritto d'autore di brevetto. Perché hanno fatto il diritto d'autore? Per tutelare l'autore, era l'Inghilterra del Settecento e allora c'erano gli stampatori che si prendevano tutti i soldi e non dava niente agli autori. Ma siamo tornati da capo, adesso il nuovo diritto d'autore tutela i distributori e non dà niente agli autori, dà poco agli autori. Il brevetto è nato per divulgare la conoscenza, non per restringerla. E pochi giorni fa ci sono alcuni che hanno partecipato alla cerimonia dei diplomi del Master, perché hanno ricevuto il Master di Bologna. L'amministratore delegato di IBM diceva che abbiamo dato i brevetti in uso come se i brevetti fossero un'arma, quale sono diventati purtroppo verso la concorrenza e non un modo di divulgare la conoscenza. I brevetti nacquero perché c'erano delle aziende che conservavano dei segreti industriali e quindi chiudevano i mercati. Allora in cambio di un breve periodo, e per quell'epoca 25 anni erano brevi, di monopolio, dovevano però rilasciare al termine tutta la conoscenza perché tutti fossero in libera concorrenza. Oggi si usa esattamente per il concetto contrario. Queste sono eccezioni del diritto, non diritti, perché il diritto fondamentale è quello di di libertà di conoscenza. TCPA per gli amici palladino. A che cosa serve? Perché io, fornitore di tecnologia proprietaria, voglio il TCPA? Non serve per proteggere i contenuti, perché fino a quando non mi metteranno il bocchettone tipo Matrix per ricevere direttamente sulla spina dorsale i contenuti, i contenuti arrivano ai miei sensi, alle mie orecchie, ai miei occhi e quindi potrei ridicializzarli, perdono di qualità. Ma secondo voi gli audiofili sentono gli MP3. Gli MP3 servono per il ballo dell'estate, servono per sentire la musichetta, non per la vera musica da audiofili. Serve semplicemente per dividere il mercato. Serve perché pochi distributori creino il successo dell'estate e che non ci sia vera e libera concorrenza fra tanti fornitori di informazione e vinca la migliore musica. Un caso di pochi giorni fa, forse è fra voi, una ditta, un ex studente o uno studente, non ricordo, vuole mettere su un'azienda e fare dei piccoli apparecchi da usare in casa per client multimediali, per mettere in camera a posto della televisione un piccolo scatolotto che in realtà è una macchina Linux che serve da televisione, telefono, tutto quello che volete. Il problema? Posso vedere i DVD? Il DCSS, se è andato piano in questo momento, è legale in Italia? Non lo so, probabilmente no. Perché viola, mostra come è fatto un meccanismo di protezione. Quindi per EUCD si chiama? Non deve essere legale. Ma allora a questo punto cosa creiamo? Creiamo DCSS legale in Italia, Piana? DCSS? È legale in Italia? Anche l'avvocato ha dei dubbi? Tecnicamente no, perché è un modo di aggirare la protezione. Facendo così, chi usa tecnologia proprietaria può leggere ufficialmente i DVD? Chi usa tecnologia libera non lo può leggere e quindi dà un prodotto un po' diciamo monco, che manca di una parte. E così è quello che succederà. Se c'è TCPA, significa che lo stesso che ora si applica ai DVD si applica ai siti web, a filmati, audio, tutto quello che volete, programmi. E quindi ci saranno contenuti di serie A e contenuti di serie B. Se voi siete gli spettatori che alzate la cresta e dite ma io voglio creare, i vostri non sono quelli certificati dalla grande major. I blog, che fine faranno i blog con TCPA? Non lo so, ci saranno i buoni e i cattivi, quelli che fanno comodo a chi fa il software proprietario e quelli no. Vi dicevo, divulgare l'idea che creare programmi sia molto difficile, fa comodo. Noi siamo tutti figli della Commodore Generation. Noi usavamo macchine che bisognava capire per utilizzare e quindi ci siamo sforzati e siamo riusciti a capire come funzioniamo. E oggi siamo in grado di creare nuovo software. Il problema dei giovani d'oggi è che sono i figli della Nintendo Generation, dove c'è l'apparenza, però sono spettatori, non possono capire come vengono fatte le cose, perdono l'uso del linguaggio algoritmico. E essendo muti dal punto di vista del linguaggio algoritmico, non sono in grado di creare nuova conoscenza algoritmica, nuovi programmi. E questo è un guaio grosso. E come si fa a cambiare questo? Bisogna togliersi dalla testa l'idea di informatica come addestramento a usare programmi e tornare all'informatica come scienza, come è. E quindi l'idea di insegnare col gessetto su una lavagna a partire dalla scuola media che cos'è un algoritmo e come si crea. Strutture sociali della dipendenza. Considerare iniziati gli spettatori professionali. Si fa con la televisione. È la televisione che crea spettatori e che va dove vogliono gli spettatori. È la televisione dell'auto e te sapete la qualità che crea. Un caso familiare di poco tempo fa. Noi avevamo una vecchia macchina Windows 98 che non ho mai voluto cambiare, non ho mai voluto aggiornare e i miei figli si sono incominciati a lamentare perché gli ultimi giochi non funzionano. È l'effetto rete. Quindi siccome l'amico ha il gioco, tu devi avere il gioco e per avere il gioco devi avere la nuova macchina, per avere la nuova macchina devi spendere e così via. Un altro modo di fare strutture sociali è la criminalizzazione dei non dipendenti e dei software proprietari. Io penso che la metà degli utilizzatori di che non sia criminale perché ha il DHSS per poter leggere i DVD. I FAD, per esempio guardate, uno studente del master pochi giorni fa mi ha segnalato questo, non lo vedo dove è ma c'è, l'Initiative for Software Choice che manda lettere ai parlamentari europei spiegando perché l'uso di formati liberi rovinerebbe l'economia, perché dicendo che c'è un'economia basata sull'altro tipo di formati e quindi sconvolge in questo modo l'economia, creerebbe danni. Un po' quello che è successo tra, vi invito a leggerlo se non l'avete già fatto, il senatore Villanueva e la Microsoft Peru. Guardate ci sono tutte le mail su internet. Effetti economici. Chi è dipendente da un fornitore unico è completamente controllato da costui. Io ho avuto un caso di obiezione di coscienza pochi giorni fa, scherzo, una signora che è proprietaria di una catena di negozi di informatica con sede a Bologna ma altre sedi in giro per l'Italia, mi ha visto, mi ha riconosciuto e mi ha detto ma mi è arrivato il bando per l'acquisizione di prodotti office per le SL dell'Emilia Romagna, sono milioni di euro. Allora mi metto il dubbio come contribuente, mi fanno piangere lacrime e sangue per la finanziaria e poi spendono i soldi in questo modo. Allora mi chiedeva come mettere in piedi una catena di prodotti con software libero. Quindi vedete dove non arriva il pubblico, arrivano direttamente anche i fornitori che in un certo senso ci potrebbero guadagnare ma poi ci mettono i panni dei contribuenti che quel soldi che guadagnano ce li ha messi fuori loro e quindi c'è qualcosa che non va. E fatti diretti con i fornitori dei hardware, buttiamo via delle macchine, qui è un altro caso familiare, lo studio dei miei genitori che per stare dietro agli F24 che non vanno in Linux e il fornitore del software di contabile che non vuole saperne di andare con software libero, butta via delle macchine da 900 MHz per fare della contabilità perché non bastano. Da informatico mi sembra follia che 900 MHz non bastino, mezzo giga di RAM non basti per fare della contabilità. E questo lo dice lunga sull'effetto di rete, alla fine inquiniamo grazie a queste cose perché buttiamo via delle macchine valide, vi invito a guardare quanta acqua potabile occorre per fare un chip, quindi vuol dire che alla fine creiamo dei danni veramente ecologici. Impoverimento dell'economia periferica, se io fossi sempre nei panni del proprietario, del software proprietario, vuol dire che tutto questo porta un massiccio flusso di denaro verso di me e impoverisco tutta l'economia degli altri Stati. Quindi questo fa comodo al governo dove ha sede questa ditta o queste ditte, ma fa scomodo a tutti gli altri, dovrebbero capirlo tutti gli altri. Spesso quello che si fa è la vendita del res comunes, i latini dividevano le cose in tre tipi, res publice, res private e res comunes. res pubbliche erano le cose di tutti gestite dallo Stato, anche questo sbaglio a corrigimi. Per esempio le strade, le strutture, l'illuminazione, le fognature e quelle sono di tutti pagati da tutti e gestiti per tutti. Le res private sono le cose di ognuno, la mia casa, allora si diceva il mio schiavo, cose del genere, oggi la mia macchina e altre. Le res comunes sarebbero le cose indisponibili, l'aria, sarebbero le bestie selvate che dicevano allora e quindi sono a disposizione del pubblico, a disposizione di tutti. Un caso per tutti, se andate negli Stati Uniti ci sono trasmissioni via satellite in chiaro per canali dati da altre nazioni, per esempio in spagnolo e in altre lingue. A voi è vietato installare una parabola per riceverle, dovete andare da una ditta che fa il broadcaster e che vi autorizza a guardarla, quindi avete rivenduto qualcosa che non era vostro. Così come le gamme di frequenza, le altre, si prende sempre di più il res comunes e si separa per venderlo. A cosa serve un master in free and open su software? Ce ne sono due in Italia. Noi a Bologna forniamo competenza e esperienza per progettare, disegnare, mantenere sistemi software basati su free and open su software. A Pisa invece l'idea, l'enfasi è un'altra, è quella di dare competenza a chi ha potere decisionale, a chi deve prendere decisioni su software libero, specialmente le pubbliche amministrazioni, per capire come funzionano i fenomeni, per capire come fare a fare le scelte. Anche i requisiti di ingresso sono diversi, il nostro è un master per informatici e quindi dovrete già essere informatici, non è detto che abbiate la laurea in informatica, matematica, statistica, abbiamo un caso anche di laurea in filosofia che ha completato con successo il master nostro, ma una laureata in filosofia che ha fatto l'informatico per anni. Come si evita il futuro che vi ho prospettato prima? cultura prima di tutto, che utilizza software proprietario, è maleducato nel senso poco educato, non è stato educato a fare altrimenti e danneggia tutti, perché in questo modo crea questi fenomeni che danneggiano l'economia, in particolare se lo fa dando l'esempio è particolarmente maleducato a scuola, nei neti pubblici. Si potrebbe promuovere macchine di qualità, io mi immagino in un futuro possibile e di Cosmo ci ho mandato delle foto dal Sud America, dove questo non è molto lontano dalla verità, dove nei supermercati compaiono dei logo con scritto proprietari software free, come se fosse OGM free, no? Oppure slogan, chi usa il software proprietario e velena l'economia, digli di smettere. Canzonette, non sapete il potere deflagrante delle canzonette, qualcuno si è mai domandato cosa significa hanno ucciso l'uomo ragno e ad un certo punto dice avrà fatto qualche sgata a qualche industria di caffè? Cosa c'è in Italia l'industria di caffè? Se qualcuno è un amico barista, gli chieda cosa fanno le industrie di caffè con i prestiti ai bar, che fanno prestiti per aprire bar ma in cambio vogliono che quel bar usa solo il caffè di quella marca e quindi facendo così controllano il guadagno di quell'esercizio. Quindi in realtà una canzonetta mette in luce delle realtà. Se si promuovesse, mi piacerebbe parlare con gente tipo Luna Pop o quelli che non sono, devo chiedere ai miei figli, non sono molto in grado di valutare chi sono quelli che vanno per la maggiore ora, per parlare di queste cose ai giovani. Bisogna uscire dal guscio, questo è importantissimo, di solito quando vado a riunioni su software libero parlo a persone che già sanno tutto e questo mi dispiace perché io voglio prendere il complementare, è come mi sembra di essere quei sagerdoti che a Pasqua in chiesa se apprendono con quelli che sono venuti in chiesa, bisogna parlare agli altri. E appunto per questo c'è il master per aiutarvi a diventare profeti del software libero, adesso sto scherzando, esagerando. Quindi a chi è rivolto? A informatici o ne ho laureati o già fermati professionalmente, noi facciamo le lezioni nei weekend, venerdì e sabato, quindi ogni due settimane e quindi se anche abitate lontano da Bologna, se anche avete degli impegni di lavoro, diventa compatibile seguire il master. Ad aziende enti software house che vogliono aggiornare le loro competenze, questi possono mandarci i loro dipendenti per come corso di aggiornamento di professionalizzazione. Come organizzato? Abbiamo le lezioni come vi dicevo venerdì e sabato, 60 crediti, quindi è come un anno universitario, laboratori vanno 7 giorni alla settimana, 24 ore su 24. Ci sono seminari come questo, ce ne sono, ne facciamo quanti più possiamo, ho messo il massimo numero di crediti possibili da statuto ai seminari perché aiutano ad avere una competenza più ampia, non parlo sempre io. E alla fine c'è un masterwork, una specie di tesi di laurea. E' un masternick hacking, questa è una mia dichiarazione una volta che ho fatto scalpore, se hacker lo interpretate nel senso giusto non deve fare scalpore, hacker è uno che non vuole limiti alla propria conoscenza, io mi sento tale perché voglio capire le cose che utilizzo, siano esse il software della mia macchina, fin da bambino a sfruttare i televisori, il motore del mio motorino, una volta era comune, adesso vedo che sta diventando sempre meno comune, forse stiamo perdendo anche in quel senso i linguaggi di hacker che andrebbero insegnati a scuola, ma un hacker deve avere una buona base culturale, non è lo spanettone che deve solo fare, quello ha vita corta perché la conoscenza cambia, se invece unisce base culturale, ha capacità di capire mediante sperimentazione, allora quella è una persona che ha delle doti vincenti, perché ha possibilità di aggiornare la sua conoscenza e quindi in questa ottica i corsi hanno tutti e due docenti, corsi informatici, un docente accademico e un docente tecnologico, un docente accademico è un mio collega, tipicamente i professori hanno grandi basi, grande esperienza, ma anche per considerazione dell'età, magari non hanno la conoscenza dell'ultimo ritrovato e di come abbinare la conoscenza all'ultimo ritrovato, allora viene in aiuto il docente tecnologico, normalmente un dottorando di ricerca, esperto in software libero, noi abbiamo una scuola di software libero da anni, il nostro dipartimento praticamente usa quasi esclusivamente software libero, posso dire da sempre, e quindi abbiamo ricercatori, abbiamo dottorandi che sono mantener di pacchetti di distribuzione, che hanno loro software libero distribuito e quindi parlano con coniezione di causa, perché a Bologna nel 1888 abbiamo inventato l'università probabilmente prima, diceva il rettore che hanno trovato documenti antecedenti, 1888 è stata un'invenzione del Carducci che nel 1888 voleva fare una festa, 1256 mi piace ricordarlo, 750 anni fa abbiamo fatto la legge del paradiso, il comune di Bologna, comune nel senso medievale, nella sua breve esperienza, poi Bologna finirà sotto lo stato della chiesa, farà la legge del paradiso con la quale l'amministrazione comunale pagherà e libererà tutti gli schiavi presenti sul territorio del comune, prima che altri da altre parti del mondo inventassero la schiavitù e poi la eliminassero, noi l'avevamo già eliminata, 1987 la prima università italiana in internet, il nostro dipartimento, allora eravamo a matematica, il primo dipartimento, dal 1989 prima ancora di Linux usavamo tutti i compilatori della GNU, allora si chiamava SunOS, dal 1995 tutti i laboratori di informatica sono software libero tranne alcune macchine per progetti specifici, dal 2001 siamo su internet 2 in i pv6 nativi, quindi abbiamo mantenuto questa prerogativa di essere avanti a tutti, dal 2004 abbiamo questo master, perché è un'unione di 4 dipartimenti che uniscono le loro competenze e sicuramente quello di, sia noi, quello di ingegneria elettronica e informatica che ci dà alcuni docenti, ma per il software libero quello di disciplina economica aziendali arricchiscono quella che è l'apporto formativo. Il laboratorio è basato su macchine virtuali, d'altronde la mia specializzazione dovevo metterla anche qua, ovviamente tutto il software è free and open source, l'ottica è la libertà di l'esperimentazione nella responsabilità, questa l'applico anche al dipartimento, tutti possono fare tutti gli esperimenti che vogliono, sono responsabili di quello che fanno, usando macchine virtuali si può anche fare esperimenti pericolosi, perché si fanno in ambienti chiusi, si può creare reti di macchine virtuali, provare a spargere worm, virus, a fare guardie l'ade, quello che volete, lo fate in ambiente chiuso, non avete problemi di sicurezza. Le tre anime del massa sono l'anima informatica, l'anima economica, l'area del diritto e se vedete qua non gli sto a dire uno per uno, i corsi sono presi dai vari ambiti. Rispetto agli anni passati, l'anno prossimo i termini non saranno più così separati, saranno un po' sovrapposti, in modo da non avere carichi di esame tutti concentrati in un unico periodo. I programmi sono configurabili secondo le competenze degli studenti, questo è un problema, ma è anche una risorsa dei corsi di alta formazione, che oltre alla competenza del docente si uniscono e si uniformano le competenze che arrivano nel gruppo da parte di tutti gli studenti. Seminari, va bene, leggetti il lucido perché sto arrivando lungo, questi sono nomi di alcuni che sono venuti a fare seminari, alcuni sono presenti anche in aula. C'è un esame di ammissione, l'esame di ammissione verte su programmazione, perché vogliamo che siate informatici, e conoscenza della lingua inglese perché i seminari verranno tenuti in caso di ospiti internazionali in lingua inglese, poi dovete catturare conoscenze in lingua inglese. Nulla di sconvolgente, dovete conoscere gli algoritmi di base per il primo, dovete saper leggere documenti tecnici in lingua inglese, vi verrà chiesto di leggere un brano da un libro, capirlo e spiegarlo in italiano, per il secondo. Non siamo soli, ci sono anche altre università che stanno facendo il master in giro per l'Europa e stiamo tentando di vedere come coordinarci. Quindi happy hacking a tutti e vi ringrazio per l'attenzione e passiamo alla parte più interessante del seminario, Carlo Piana e Flavia Marziano.